se mi chiedessero qual è la prima differenza di come suonavo dal me stesso di cinque anni fa a quello di oggi beh risponderei che è cambiata solo una cosa la sensibilità con il quale suono eh sì perché stavo riguardando alcuni video di cinque anni fa quando ho iniziato anche un po' di più e ho notato una cosa questo è come suonavo e cantavo circa cinque anni fa ve lo faccio vedere e quello che ho notato appunto è che adesso non è l'esperienza che faccio il ritmo un po' meglio che suono meglio che canto meglio si sono migliorato un filo anche sotto quegli aspetti ma semplicemente è la sensibilità con il quale io suono una determinata nota che canto in un certo modo la sensibilità della voce il volume e il ritmo con il quale suono quella canzone e riesco ad emozionare semplicemente avendo più sensibilità rispetto a cinque anni fa quando ho iniziato a guardare semplicemente avendo più quindi quello che io ho imparato in questi anni è l'avere più sensibilità nel quale suonavo può sembrare un po' stupido o un qualcosa di base ma in verità è una cosa molto importante perché è proprio quella la differenza che ti fa suonare una canzone anche semplicissima da due accordi bene o male avere sensibilità riuscire a suonare con le dita con il plettro in un modo che riesca ad emozionare gli altri quindi se mi chiedessero qual è la cosa che è cambiata dal me stesso di cinque anni fa a quella di oggi risponderei la sensibilità con il quale io suono vi invito a pensarci anche voi provate a essere più sensibili mentre suonate e vedrete che migliorerete davvero tanto questo è un video un po' così un po' diverso dal solito spero vi sia piaciuta questa perla dell'ultimo momento volevo anche far vedere lo sfoccato dietro guardate che bello ok noi ci vediamo al prossimo video ciao